Ciao a tutti ragazzi, qui Ronvel, come sei. Siamo qui su minecraft con un breve tutorial su come fare una leva segreta senza mod o altre cose. Ci serviranno dei blocchi, comuni blocchi, ad esempio così, ci mettiamo un pistone tipo, come se non ce l'avessi, ci siamo preparati per il video, ci mettiamo una redstone qua, un blocco qui sopra, poi ci mettiamo una scala e un'altra scala. Ci mettiamo qui la leva e vedete che il pistone si attiva e si chiude attraverso questo buco qui. Quindi uno passa, dice che cazzo è un muro, chi se ne frega, mentre voi attivate questo e altre, tipo la vostra data segreta della base o altre robe. Quindi spero di esservi stato utile, da Roman Bellicons è tutto, ci si vede nel server qua se venite, vi lascio l'impi in descrizione, vi faccio entrare nella città se dite la password e ci si vede nel prossimo video, ciao!